si è lodato Gesù Cristo e avanti con Maria carissimi figlioli siamo alla vigilia della grande solennità del Sacro Cuore di Gesù che viene celebrata ogni anno dopo la solennità del Corpus Domini e questa solennità come ho spiegato stamattina nella prima delle due catechesi a mezzogiorno domani a Dio piacendo a mezzogiorno ci sarà la seconda catechesi ci fa contemplare il mistero come anche dicevamo oggi durante l'adorazione eucaristica durante l'ora santa di un Dio infinitamente amante delle sue creature ecco il cuore sacratissimo di Gesù tra l'altro domani venerdì del Sacro Cuore è anche la giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti ecco allora immergiamoci in questo cuore di Gesù come l'Apostolo Giovanni che nell'ultima cena poggia il proprio capo sul petto di Gesù e come dicevo stamattina nella prima delle due catechesi la seconda sarà domani a mezzogiorno Giovanni è chiamato da origine un padre della chiesa è chiamato epistetos o epistetos con l'articolo determinativo cioè colui che sta nel petto ecco in fondo tutta la chiesa è epistete epistete al femminile la chiesa è epistete o è epistete o non è cioè epistete in greco vuol dire al femminile colei che sta nel petto la chiesa sta nel cuore di Cristo è lo sposo che comanda ecco è lo sposo che comanda lo sposo è Cristo e la sposa per amore è sottomessa a Cristo questo non lo dico io lo dice la Sacra Scrittura una chiesa che perde di vista lo sposo e comincia a piacere solo a se stessa è una chiesa che si ammala ecco allora il Sacro Cuore di Gesù ricorda tutti noi in una parola quello che Fonbaltasar chiamava il punto alfa Cristo Gesù ecco ci prepariamo quindi nella preghiera a questa solennità del Sacro Cuore di Gesù che anche la solennità che sottolinea il tema della riparazione Gesù mostra il suo cuore vi prego di riflettere molto su questo aspetto qui Gesù che mostra il suo cuore e dice a Santa Margherita Maria la coc ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini dobbiamo sempre fare memoria di questo c'è un cuore divino umano che ci ha amato fino al dono totale di se stesso non è un caso che proprio l'Apostolo Giovanni che è l'Epistetos colui che sta sul petto di Cristo inizia il racconto della passione se vi ricordate al capitolo 13 versetto 1 dicendo anzi noi avevamo fatto l'inizio delle Catechesi sul Vangelo di Giovanni le riprenderemo dicendo al capitolo 13 versetto 1 Gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine pertanto io penso che veramente questa solennità del sacro cuore di Gesù ci deve aiutare come Chiesa a guardare allo sposo noi siamo la Chiesa la sposa lo sposo è Cristo bene detto questo andiamo al nostro ciclo di Catechesi non so quante finora ne ho fatte ho perso il conto ma mi ricordo molto bene però quella di giovedì scorso due giorni prima del raduno di Cavaillon Veronese io quella Catechesi lì non perché l'ho fatta io ma per le cose che la Madonna ha detto a Luisa Piccareta quella Catechesi lì mi è rimasta nel cuore i miei quelli che mi stanno più vicini se ne saranno accorti l'impero della divina volontà che espressione la volta scorsa giovedì scorso ero a Bergamo l'impero della divina volontà quando la Madonna entra nel tempio per stare nel tempio e Luisa Piccareta dice io voglio stare nel tempio della divina volontà nel tempio della divina volontà e poi a un certo punto non mi ricordo se la Madonna o Luisa che dice ti consegno le mie chiavi o è la Madonna che dice dammi le chiavi perché io introducendoti nel tempio ci rimanga per sempre o tu ci rimanga per sempre ecco rimanere nel regno della divina volontà senza questi esodi continui verso noi stessi verso la nostra volontà ma rimanendo nella volontà di Dio nel regno della divina volontà quindi nell'impero della divina volontà questa sera invece la Madonna conduce Luisa Piccareta con il sedicesimo giorno nella vita che ella trascorre nel tempio e la Madonna in questo modo aiuta Luisa a capire che cosa bisogna fare rimanendo nel regno della divina volontà inizia sempre tutto con la parola di Luisa che dice pregando alla Madonna mamma mia tieni il mio cuore nel tuo e al posto del mio cuore metti come pegno d'amore di madre la divina volontà allora domani è la soledità del sacro cuore non so se sapete figlioli cari che esiste un fenomeno mistico abbastanza raro che ha avuto Santa Caterina da Siena sicuramente che ha avuto Padre Pio non so altri santi Santa Teresa d'Avila almeno per quello che sappiamo sicuramente San Francesco d'Assisi questo fenomeno mistico assolutamente straordinario si chiama scambio dei cuori cioè Gesù ti toglie il tuo cuore e ci mette il suo ma che cos'è questo se non un privarti per sempre grazie a Dio della tua volontà per trasferirti nel regno della divina volontà è questo no? è questo dobbiamo chiedere alla Madonna quello che chiede stasera Luisa introduci il mio cuore nel regno della divina volontà chiediamolo spesso mi raccomando non fidiamoci mai di noi stessi c'è troppa sicumera in giro Padre Pio era tormentato dall'idea di perdere Dio il santo curato d'Arsa era provato da uno spirito di disperazione che gli faceva credere che egli non era gradito a Dio non bisogna cadere nello scrupolo naturalmente che è un problema ma neanche essere troppo sicuri allora dove sta la soluzione? Signora mia e Madre mia Maria ti consegno il mio cuore mi raccomando ti consegno il mio cuore diamo il nostro cuore alla Madonna figli di cari non teniamolo per noi stessi ti consegno il mio cuore ecco Manuela Bloccari o Bloccari ci ricorda anche ed è vero Santa Veronica Giuliani e purtroppo ha ragione Manuela a citarla perché è una santa hanno fatto anche di recente un film io non l'ho ancora visto ma sono stato più volte a Castello a Città di Castello a pregare a celebrare messa sulla tomba di Santa Veronica Giuliani è purtroppo molto dimenticata questa suora cappuccina francescana del 1700 ma anche lei una grande mistica mi dice anche Anna Maria Virdis che Josefa Menendez anche lei ha avuto questo dono insomma quindi sono diversi però vorrei dire anche questo tutti dobbiamo chiedere alla Madonna questa grazia prendi il mio cuore vi ricordate Santa Alfonso Maria dei Liguori nel canto che scrive alla Madonna o bella mia speranza dice prendi il mio cuore e dallo a Dio prendilo e dallo a Dio che io non lo voglio più ecco allora Luisa dice alla Madonna prendi il mio cuore e al posto del mio cuore mettici la divina volontà che bello questo chiediamolo insistentemente alla Madonna prendi il mio cuore e al posto del mio cuore mettici la divina volontà ed ecco che allora la Madonna dà la sua lezione ogni volta si chiama lezione della regina del cielo vediamo qui la Madonna che cosa dice guardate come inizia figlia mia carissima come sospiro di tenerti sempre insieme con me sempre insieme con me dobbiamo stare con Maria io parlo per la mia esperienza personale non so voi dobbiamo stare sempre con Maria la nostra esistenza deve trascorrere con la Santa Vergine ma la Madonna stessa dice ho sospiro di tenerti sempre con me e qui è la Madonna che dice vorrei essere il tuo palpito il tuo respiro le opere delle tue mani il passo dei tuoi piedi per farti sentire per mezzo mio come operava la divina volontà in me la Madonna ci dice vieni alla mia scuola vieni alla mia scuola affinché tu impari a non fidarti di te stesso a non seguire la tua volontà umana che produce disastri incredibili qui la Madonna fra un momento lo vedremo parla di Adamo e dice che il primo ed è vero la Bibbia lo dice con molto chiarezza il primo frutto nocivo che si ottiene quando non si compia più la divina volontà e non si vive nel regno della divina volontà è la paura lo vedremo fra un momento ma la Madonna ci dice venita alla mia scuola allora Luisa dice ti consegno il mio cuore al posto del mio cuore mettici la divina volontà e ora la Madonna dice io sospiro che tu stia sempre con me affinché io ti insegni come è dolce amabile e incantevole vivere nella divina volontà e qui la Madonna ripete o come mi renderesti doppiamente felice se avessi te figlia mia sotto l'impero totale ritorna questo termine che vi invito a memorizzare nel cuore ed è sotto l'impero totale del fiat divino la nostra esistenza perché piace a Dio deve con la fatica che questo comporta tornare a essere deve arrivare ad essere ciò che avrebbe dovuto essere Adamo è un po' insomma un po' teologicamente ardita come affermazione però è così cioè la nostra vita perché sia gradita a Dio attraverso il fiat totale il fiat supremo alla divina volontà deve poter arrivare ad essere ciò che sarebbe stato Adamo se non avesse deciso di voltare le spalle a Dio col peccato originale capite ecco e la Madonna allora a un certo punto introduce Luisa nel mistero della sua esistenza nel Tempio di Gerusalemme la volta scorsa abbiamo visto il momento in cui la Madonna entra nel Tempio oggi in questo sedicesimo giorno la Madonna spiega a Luisa come viveva nel Tempio di Gerusalemme la Madonna entrata a detta di tutte le fonti nostra disposizione dai Vangeli apocrifi come quello del protovangelo di Giacomo fino ai testi mistici la Madonna entra nel Tempio di Gerusalemme all'età di tre anni all'arrivo del primo flusso mestruale c'era l'impurità non morale perché non era peccato ma rituale come prevedeva il libro del Levitico perché il versamento di sangue rendeva impuri dal punto di vista rituale pertanto la fanciulla vergine che diventava donna non poteva poi più stare nel Tempio perché il flusso di sangue mestruale era segno di impurità mi spiego? pertanto in quest'ala come dicevamo la volta scorsa ed è provato dagli studi che c'era proprio un'ala dedicata dove vivevano queste fanciulle non sappiamo quante piuttosto di famiglie sacerdotali come lo era Maria perché Aronne era della perché Gioacchino il papà di Maria era della classe sacerdotale di Aronne presumibilmente ad ogni modo vivevano in quest'ala e che facevano? ecco questa è la domanda ma che è fatto Maria dall'età dei tre anni ai dodici anni? in fondo è il mistero della vita nascosta come lo era quello di Gesù come lo è quella di Gesù che Gesù lo lasciamo a dodici anni nel Tempio di Gerusalemme lo ritroviamo più o meno trentenne trentacinquenne più o meno giù di lì che predica ricevendo il battesimo il Regno dei Cieli anche Maria la lasciamo a tre anni che entra al Tempio di Gerusalemme e la ritroviamo poi nello sposalizio con Giuseppe Maria va in esposa a Giuseppe intorno ai quattordici anni ma dai tre anni ai quattordici anni quindi per lo spazio di dieci anni che nella vita di una donna sono anni decisivi perché la donna matura prima dell'uomo mentre l'uomo ha processi di maturazione molto lenti che possono anche non essere mai completi l'esperienza insegna nella donna la cosa è implacabile rarissimo che una donna intorno ai quattordici quindici anni non sia paradossalmente già matura per la vita perché è costitutivo da parte di Dio questo allora che cosa ha fatto la Madonna ecco che cosa ci dice io continuavo la mia vita nel Tempio quindi le sue giornate la Santa Vergine le trascorreva nel Tempio di Gerusalemme fra un momento vi leggerò cosa scrive Maria da Greda quando racconta come la Madonna trascorreva la sua esistenza nel Tempio voi sapete che la Madonna è il modello delle spose e delle madri ma è anche il modello soprattutto delle vergini delle consacrate una vita tutta per Dio io continuavo la mia vita nel Tempio potevo andare per il cielo quante volte lo volevo avevo il passo libero di salire e scendere dal cielo una frase di affermazione diciamo sorprendente però vera primo perché Maria è immacolata e quindi non ha il peccato originale pertanto la sua preghiera doveva essere una preghiera ardente ma cosa pregava Maria io qui non ho trovato il tema della sua preghiera così come non si trova facilmente altrove un po' in Maria Valtorta e allora nella mia preghiera personale ogni volta che io accenno a qualcosa di personale si scatena il putiferio chissà perché ma io non rinuncerò mai alla mia dignità di cristiano battezzato ministro di Dio con qualche carisma poi se finisco al ruoco come Santa Giovanna d'Arco non fa nulla nella mia preghiera personale il cielo mi ha rivelato che la preghiera di Maria era un'insistente richiesta che venisse il Messia capito che venisse il Messia ma attenzione non è che lei si candidava era abbastanza umile perché non pensasse di essere disponibile lei anche se lo sentiva ma per umiltà si defilava capito ma la sua preghiera e dice Sant'Agostino che Dio scese sulla terra per i meriti di Maria attenzione Sant'Agostino che lo dice Sant'Agostino padre della chiesa dottore della chiesa dice che quando si chiede medita e qui però ce ne andiamo alle stelle no è colpa mia è colpa mia le mie catechesi sono di un disordine le mie catechesi sono caotiche 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 proprio caotiche non c'è un ordine ce ne andiamo all'esterno ma questo lo devo dire però non ne lo avevo preparato ma mi viene questo flash Sant'Agostino medita su quella parola dell'Apostolo Paolo nel lettere Galati quando venne la pienezza dei tempi giustamente si domanda e qual è il criterio per determinare qual è stata la pienezza dei tempi sapete cosa risponde? La preghiera di Maria non vi pare sorprendente il fatto che questa fanciulla tutta santa tutta pura trascorra d'inverno ed estate la sua esistenza nel tempio pregando l'onnipotente l'Adonai no? Yahweh che mandi il suo Messia ecco quello è per Sant'Agostino il motivo della pienezza dei tempi la preghiera di Maria e c'è qui questa immagine seconda intuizione in questa lezione della regina del cielo di questo tempo trascorso dalla Madonna nel tempio di Gerusalemme in cui le dice che saliva e scendeva dal cielo che significa che aveva voli mistici no no vi ricordate la scala di Giacobbe nel libro della Genesi quando Giacobbe vede quella scala che sale fino al cielo e vede gli angeli salire e scendere dal cielo ma scusate chi è la vera scala di Dio se non Maria attraverso cui Dio viene a noi e guardate che bello qui nel cielo avevo la mia famiglia divina è una frase che mi ha molto colpito perché Luisa dice nella preghiera introduttiva prendimi il cuore e al posto del mio cuore mettici la divina volontà ora qui la Madonna dice nel cielo avevo la mia famiglia divina sì ognuno di noi ha il papà la mamma i fratelli le sorelle il marito la moglie i figli tutto quello che vogliamo uno spazio di relazioni affettive significative ma la Madonna qui sta dicendo che la nostra vera relazione decisiva è quella con Dio è quella con Dio bellissimo di là il Monforte che Maria era perduta e perduta in Dio era perduta in Dio e aggiunge la divinità stessa mi aspettava con tanto amore per conversare con me per felicitarsi rendermi più felice più bella più care i suoi occhi qui mi è venuto in mente quello che il Monforte dice nel trattato della vera devozione su Maria che Maria è il riposo della Santissima Trinità se permettete integrando ve lo leggo è il numero 5 del trattato dice il Monforte Maria è l'eccellente capolavoro dell'Altissimo di cui egli si riservò la conoscenza e il possesso Maria è la madre ammirabile del figlio che si compiacque umiliarla e nasconderla nella sua vita salto e poi dice Maria è il santuario è il riposo della Santissima Trinità è una frase fortissima che però la Madonna Luisa conferma quando dice che Dio si compiaceva e aspettava con tanto amore per conversare con me qui io ci ho visto perché bisogna conoscere anche i volumi precedenti quelli nei quali parla Gesù la questione di Adamo che sfugge e volta le spalle al regno della divina volontà e il Signore vede Adamo perdersi allora ecco Dio vede in Maria questa nuova possiamo chiamarla interlocutrice in teologia si parla di partnership no? una cosa che mi è sempre piaciuta berit in ebraico vuol dire alleanza no? è una categoria importante nella nella tradizione ebraica berit alleanza ecco ma l'alleanza è Dio che la che la che la determina no? è Dio che la determina ma ci vuole un partner un partner dico io sempre come sapete fetente perché diciamo è già Adamo e poi tutta la Bibbia non solo l'Antico Testamento ma soprattutto ecco è un continuo sottrarsi alla divina volontà no? però Dio ha scelto il partner che è Israele capite? ma questo Israele diciamo potremmo dire diciamo così come si dice quando delude Dio capite? questo partner delude Dio la berit che è l'alleanza in ebraico è Dio che la stipula con Israele ma questa berit lascia Dio deluso già con Adamo e poi lo vediamo con vi ricordate al tempo di Noè il diluvio e poi la storia dei patriarchi e poi non parliamo del popolo quando viene eletto dall'Egitto in poi dalla liberazione subito dopo il passaggio del Mar Rosso è un popolo fetente che si ribella continuamente a Dio ecco allora Dio perché Dio Padre Yahweh cerca questa relazione per necessità no no per amore capite? noi abbiamo bisogno di Dio ma Dio non ha bisogno di noi ha deciso di avere bisogno per amore allora quando poi sceglie Maria questa berit di Dio trova finalmente dai tempi di Adamo a Maria non so se mi state seguendo trova la sua piena attuazione Dio si può riposare perché trova una partner assolutamente perfetta questo si vede in una coppia no? quante coppie conoscete? io ne conosco tantissime quante ne sono veramente affiatate che con gli occhi si capiscono si possono forse contare nelle dita delle mani no? nelle dita delle mani perché? perché l'intesa direi l'intimità al di là di quella fisica quella fisica è soltanto potremmo dire un aspetto è una intimità profonda relazionale rara rara che però esiste perché ci sono coppie che siccome falliscono poi dicono non esiste questa relazione no esiste io conosco coppie anche avanti negli anni che si amano e sono l'uno per l'altra non è vero che se tu hai fallito il matrimonio non va bene e non conviene sposarsi non esiste l'amore non si parla così chiediti perché hai fallito ma l'amore esiste Dio lo ha creato ed è un rapporto di partenariato dove l'uomo e la donna sono in un'intesa profonda allora perché vi sto dicendo tutto questo perché Dio che era rimasto deluso non so se sto riuscendo a trasmettere il messaggio con Israele con Adam finalmente trova in Maria quella intesa con gli occhi quella intesa per cui si sta bene con la persona che si ama ecco per questo il Monforte dice Maria è il riposo di Dio cioè perché il Padre Eterno sarà anche stancato insomma ora che Maria è nel Tempio tre anni quattro anni cinque anni la vediamo crescere no? non so dalle vostre parti parlo per quelli che ci seguono dal nord ma diciamo mia madre è dell'entroterra Siculo non è di Palermo e dalle sue parti diciamo le fanciulle quando erano carine i bambini belli i fanciulli belli rosei in viso paciocconi biondi io da piccolo ero così venivano chiamati i Giovannini va bene? i Giovannini perché richiamavano San Giovanni Battista le fanciulle rubiconde carine come lo era mia mamma quando era piccola venivano chiamati i Miliddi i Miliddi che significa i Miliddi in siciliano? le mele le piccole mele perché la mele è rotonda è bella da guardare allora mia mamma quando era piccola mi era chiamata Amilidda perché era rotondeggiante così allora immaginiamo una Madonna Amilidda potremmo dire che cresce tre anni quattro anni un incanto sei anni sette anni otto anni nove anni dieci anni undici anni poi sarà arrivato non sappiamo a che età esattamente lì resta tutto questione di rispetto il tempo della diciamo femminilità e tutto cambia per quello che riguarda il fatto che dovrà lasciare il Tempio ma in quegli anni ella soprattutto io penso in quegli anni Maria è stata il riposo di Dio Dio la guardava questa fanciulla che lo prega Yahweh Adonai Elohi e che cerca di dice Sant'Agostino ha strappato il verbo dai cieli vi ricordate quel testo mamma mia io mi scuso con voi sembrerebbe che ma comunque vi ricordate quel testo di Isaia stillate cieli dall'alto e piovano il giusto le nubi piovano il Messia è piovuto dal cielo ma è stata Maria che ha provocato la perturbazione capito ha strappato il verbo dal trono di Dio solo Maria poteva farlo tutti noi insieme tutti i giusti o gli eletti di tutti i tempi della storia del cristianesimo e non solo i giusti anche dell'antico sessamento tutti insieme non possiamo arrivare a dove è arrivata Maria che ha strappato dice Sant'Agostino il verbo dal trono dei cieli per portarlo sulla terra quindi dice Monforte Mariere riposo della Santissima Trinità guardate qui dove Dio si trova in modo più sublime e divino che in qualsiasi altro luogo dell'universo e nessuna creatura per quanto sia pura può entrarvi senza senza uno speciale privilegio e aspetta che qui c'è un momento dunque Daniela Dolfi domanda dove si possono trovare i volumi della piccareta basta contattare la casa editrice Gamba che è quella che pubblica anche i miei libri e lì trovate la possibilità di testi e conclude il Monforte Maria la divina Maria dice anzi è il paradiso terrestre del nuovo Adamo qui dobbiamo solo veramente congiungere le mani e chinare il capo dinanzi al mistero il paradiso terrestre era quello dove Adamo era stato fatto principe nel regno della divina volontà Maria è colei che diventa il paradiso terrestre di Dio allora la Madonna dice a Luisa amavano le tre persone divine di essere vinti dalla loro piccola figlia e sentirsi ripetere scenda scenda il verbo sulla terra ecco qui la Madonna appunto apre questo spiraio nel quale lascia intendere qual era la sua preghiera nel tempio la Madonna pregava questo si legge molto bene in Maria Valtorta nel primo volume pregava perché il verbo di Dio venisse sulla terra e guardate cosa aggiunge ancora Madonna ci sono altre ulteriori intuizioni bellissime mi affidavano il segreto della storia del genere umano allora io oggi nonostante il gran caldo volevo chiedervi se riuscite a cogliere cosa vuole dire qui la Madonna lo chiedo anche qui ai presenti brava brava esattamente la Madonna ha avuto chiaro che c'è un libro della storia con dei sigilli che può aprire e apre soltanto l'agnello di Dio Maria nel tempio chissà quali luci avrà avute ora io non so per quel che riguarda voi parlo per la mia esperienza per esempio a riguardo della questione della tesi dell'unacum o dei due papi che in questo momento sono presenti di cui uno solo è vero l'altro no e tutte le altre storie noi riceviamo delle luci da dove si capisce che vengono da Dio e non dal diavolo ve lo siete mai chiesto quelle che vengono dal diavolo sono luci che ti insuperviscono che ti inorgogliscono e ti incaponiscono incaponiscono invece ogni tanto qualche rimembranza invece le luci che vengono da Dio ti umiliano te non vorresti neanche presentarle Dio deve farti violenza perché tu dica certe cose o capisca certe cose cioè guardate che quando arrivano luci tanto più sono grandi tanto più tu diventi piccolo il frutto che le luci vengono da Dio è quando tu diciamo vieni andientato non so se non c'è nessun orgoglio in quel allora immaginate voi la Madonna nel Tempio di Gerusalemme in quegli anni che vanno dai 3-4 anni ai 12 anni presumibilmente più o meno 12 anni 12-13 anni poi varia da donna a donna la Madonna ha avuto chiaro il segreto della storia del genere umano chissà qui veramente la Madonna apre lo scenario ma nello stesso tempo se notate lo chiude perché non lo esplicita ci saremmo aspettati almeno io che sono teologo che la Madonna adesso qui ci facesse gustare che cosa esattamente significa quello che sta dicendo mi affidavano le tre persone divine il segreto della storia germana allora spiegacelo raccontacelo dici che cosa esattamente hai visto o più che cosa hai sentito che cosa non lo dice la Madonna non lo dice aggiunge figlia mia adesso qui c'è l'insegnamento e concludiamo tu devi sapere che la volontà umana ha chiuso il cielo sì questo è tutto biblico è tutto biblico vi ricordate che quando Adam e Eva vengono cacciati via dal paradiso terrestre e Maria diventa lei poi il paradiso terrestre di Dio Dio mette un angelo a guardia dell'Eden un cherubino mi pare con la spada di fuoco per serrare l'ingresso cioè la volontà umana di Adamo ha chiuso il cielo e ora la Madonna dice come l'uomo si sottrasse dalla volontà divina divenne pauroso io non vorrei fare come si dice ad usum delfinium però tante volte mi si chiede se io ho paura di morire di soffrire di finire in carcere io vedo le immagini del cardinale George Pell australiano per me innocente non ho paura né delle manette né le resbarre né della morte del sangue versato ha paura solamente chi si sottrae alla volontà divina ricordatevi questo è un insegnamento solenne che do a voi soprattutto a voi che siete qui stasera qualunque cosa Dio ti chieda non aver paura se te la chiede ti darà la forza è esattamente quando tu ti sottrai a quello che ti ha chiesto che diventi una larva e penso che mi stiate capendo purtroppo visto gli ultimi esiti si diventa larve si diventa delle mummie si diventa dei parassiti di se stessi come Adamo Adamo dove sei dice Dio vi ricordate? ma questo guardate che questi testi della divina volontà come vedete sono di una profondità sconvolgente Luisa però anche lei non dimentichiamocelo ha vissuto a letto la sua vocazione è nata quando un giorno era affacciata aveva mi pare 13-14 anni e vede Gesù ma non è che vede nel senso di proprio lo vede passare nella strada della diciamo villa che aviamola così dove lei abitava in estate e vede Gesù che porta la croce spintonato a destra e a manca che crolla a terra si rialza tutti lo vogliono morto e lei ha affacciata Luisa che ancora diciamo non aveva grossi guai e Luisa vede Gesù Gesù alza lo sguardo spinge lo sguardo verso di lei la guarda e le dice anima aiutami lo dico perché domani è il sacro cuore di Gesù no? anima aiutami e da quel momento Luisa si mette a letto non si muove più più o meno diciamo a parte qualche piccolo intervallo starà paralizzata a letto il venerdì lei non si muove entra una sorta di catalessi spirituale mistica chiamiamola così ma comunque e quindi per dire la profondità del messaggio ma ritorniamo al tema Adamo ha paura ho sentito il tuo passo nel giardino e mi sono nascosto perché ho avuto paura figlioli cari nessun cammino a cui Dio ci chiama produce paura se veramente se veramente noi viviamo nel regno della divina volontà i martiri non hanno avuto paura di morire ma voi direte ma Gesù nel Getsemane ha sofferto per noi dirà Sant'Agostino è lui che ha sofferto per noi a noi dà il coraggio dà la forza dall'entusiasmo la passione il trasporto invece quando come Adamo noi ci sottraiamo al regno della divina volontà diventiamo parassiti di noi stessi delle mummie a Palermo ci sono le catacombe ecco si diventa come le mummie si diventa cadaveri nell'anima Adamo Adamo si sottrae al regno della divina volontà e per questo prova paura dice la Madonna Luisa come l'uomo si sottrasse dalla volontà divina divenne pauroso timido perdette il dominio di se stesso l'uomo aveva paura di tutto non so se avete notato che la Madonna insiste molto su questo tema anche con le catechesi precedenti che abbiamo fatte non perdetelo di vista la Madonna ci ricorda che ha paura chi si sottrae al regno della divina volontà io ho conosciuto anime che hanno avuto ardimenti spirituali straordinari e che solo perché condotte dalla divina volontà hanno potuto affrontare le prove che le aspettavano ma ho conosciuto altrimenti persone che si sottraggono alla divina volontà tu le vedi è una pena immensa stanno dritte camminano quasi volano appena si sottraggono alla divina volontà anche fisicamente mentre erano luminose che tu le vedevi che stavi contentandoti di vedere queste anime gioiose luminose si incurvano Sant'Agostino stasera proprio ce l'ho con lui parla a proposito di Adamo di incurvazio eh in termini diciamo teologici ma che grazie non vedo niente in termini teologici parla di incurvazio siccome mi si è rotto l'orologio allora me li prestano ma sono tutte caffettiere non vedo bene che ore sono vabbè vediamo no perché è graffiato alle 10.10 sono alle 10.10 devo chiudere incurvazio se è Sant'Omaso eh sì Sant'Omaso Adamo si incurva ma io vedo questo guardate sono stato e sono padre spirituale di anime che poi vengono stanno mangiano divorano e poi se ne vanno incurvate su se stesse se tu vai a chiedere il motivo la colpa sarà o di Dio come Adamo no? il peccato originale o tuo o degli altri mai che dicano la colpa è mia perché io mi sto sottraendo alla divina volontà nella divina volontà non c'è nessuno che viva nella tristezza guardate i Santi Luisa guardate che volto guardate che espressione eppure era paralizzata a letto come Maria Valtorta questo la Madonna ce lo dice l'uomo aveva paura di tutto figlia mia ascolta la madre tua e ponderà bene il gran male dell'umana volontà togli essa l'umana volontà attenti bene toglie gli occhi dell'anima e la fa diventare cieca che espressione mi pare simile a quella dell'impero della divina volontà con essa concludo l'umana volontà quando scegli tu di fare quello che tu vuoi no e dice Madonna toglie gli occhi dell'anima e questo lo dicevano i padri della Chiesa Origene non solo ma anche diciamo sì Origene poi anche i padri Cappadoci il grande grande insuperabile Gregorio di Nazianzo Gregorio di Nazianzeno parlava di sensi spirituali vista udito tatto e così via ecco allora c'è anche una vista spirituale quindi gli occhi dell'anima come il corpo ha degli occhi anche l'anima e anche l'anima ha degli occhi la mattina ascoltavo al telegiornale a mezzogiorno l'intervista a un cieco nato aveva le pupille chiuse però lui con l'anima ci può vedere tant'è che si è laureato insomma è per dire allora la Madonna dice quando noi facciamo la nostra volontà si chiudono gli occhi dell'anima è vero uno non sa più dove andare che cosa fare l'incurvazio siccome Adamo si curva su se stesso e la sua vita trascorre che dolore questo nella lamentela nel disfattismo nella mormorazione nella desolazione la Madonna dice perciò metti la mano sul tuo cuore visto che domani è la sonnetà del sacro cuore ecco dice la Madonna metti la mano sul tuo cuore giura la mamma tua questa è molto forte giura la mamma tua che vorrai piuttosto morire che fare la tua volontà che bello sì mamma io ti chiedo questa sera prima come ha detto come ha detto Luisa toglimi il cuore però non mi far morire di infarto mettici la divina volontà perché sennò i nemici gioiscono e poi metto la mano sul mio cuore e ti giuro come tu chiedi giura la mamma tua che vorrai piuttosto morire che fare la tua volontà e non so voi sì io questa sera dico preferisco morire piuttosto che fare la mia volontà e qualche settimana fa lo dico con tutto il rispetto una figlia spirituale del nord mi ha detto che ha contattato un sacerdote non farò il nome che ha un'opera spirituale importante che ha avviata e gli ha chiesto ma a te cosa pensi di Don Minutella e lui ha risposto in forma riservata posso dirlo perché non faccio il nome del sacerdote lui ha risposto no no dice le cose giuste e allora perché non lo fai anche tu risposta è perché se lo faccio mi viene distrutta tutta l'opera che ho fatto scusate ma l'unico deficiente d'Italia sono io ma anche io avevo un'opera io avevo la parrocchia sempre piena la compagnia di Maria i pionieri di Rosario i sentinelli di Betania non so quale altra caspita dirò piccola Nazareth ma scusa ma ma quando Dio chiede bisogna uscire dall'Egitto è inutile che facciamo i calcoli umani se i preti lo capissero concludiamo quindi mettiamo la mano sul cuore diciamo metti la mano sul tuo cuore e giura la mamma tua che vorrai piuttosto morire che fare la tua volontà guardate che bello qui io col non fare mai la mia volontà non ho mai avuto nessuna paura chiediamo alla Madonna Fiolicari che ci aiuti in questo cammino e concludiamo con la giaculatoria che sempre Luisa pone alla fine delle sue lezioni mamma mia fiducia mia forma il giorno della volontà divina nell'anima mia la ripeto mamma mia fiducia mia forma il giorno della volontà divina nell'anima mia bene carissimi mentre lasciamo il tempio di Gerusalemme andiamo in un altro vero tempio che è il sacro cuore di Gesù vi augo stasera domani di trascorrere questa grande solennità del sacro cuore di Gesù nella preghiera nella fede domani a mezzogiorno ci sarà a Dio piacendo la seconda puntata della Catechesi sulla divina volontà sul sacro cuore di Gesù scusate mi sono un po' e quindi ecco adesso su tutti voi invoco la benedizione del Signore perché ognuno mettendo la mano sul proprio cuore giuri alla Madonna che preferirà morire piuttosto che fare la propria volontà vi benedica Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo a me sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria Grazie a tutti